Wuh! Il mio rispetto qua non lo regalo Forse è un difetto e l'ammetto Chiamami strano Portami sopra il palmo ad una mano Lasciami andare a fondo In fondo è un comune che cazzo ci abbiamo Fa strano Magari siamo innamorati Ma per quanto litighiamo Abbiamo il Guinness dei primati Restiamo indenati Sì, sì, sì Quando ero un figlio in Roma Il solo sogno che avevo Era diventare un prestigio professionale Quindi ho cominciato questo business In mio paio, in Europa Sacrificato tutta la mia vita Tutta la mia amica Tutta la mia famiglia Tutta la mia famiglia Tutta la mia moglie Tutta la mia moglie Per diventare un prestigio E per creare questo business E per creare un nome per me Quindi ho passato qui Per i Stati Uniti Per competere con i Besti E finalmente posso dire Che sto vivendo il mio sogno Sono un prestigio professionale E guardatevi a te E guardatevi a te E guardatevi a te Sì, te Qualche tipo di sogno che hai Sarà difficile Fogli Sì, guardatevi Sì, guardatevi Sì, guardatevi Sì, guardatevi Sì, guardatevi Sì guardatevi Sì, guardatevi Sì guardatevi I non ho tyingучolo Adesso e ogni volta che sto in questo ring, non mi ricordo perché ho iniziato questo business. Non è per farlo, ovviamente, per farlo, per la vita, ma al fine di oggi, non molto. La felicità è importante, e la mia felicità è per te, 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 per te. . UTCT . . . . E' un'altra parte della storia. Non sono potenti entertaini. Non sono potenti competire. E il mio cuore è rotto. Perché non posso farlo. Non posso farlo. Non posso farlo. Non posso farlo. Buon ninja. Ho frattato il mio corpo. Non sono potenti competire. Si accade là. Ma la tua vita. Ma la tua vita. Qua è la tua vita. No. È la tua vita. Mentre la tua vita. Che la tua vita. Ma la tua vita. La tua vita. Questi che ieri. che stiamo a un campeonato che non defiende che si mi sconde che sape che io sono il primo del campeonato e mi tuve che dare la tarea di creare mio proprio campeonato questo è il brand new pro wrestling 2.0 per il heavyweight champion perché? perché sono un campeonato reale un campeonato reale non ti non ti defende non ti defende non ti defende quindi io ho creato questo perché io voglio fare questo questo campeonato ogni ogni anno qui a 2.0 quindi con quello che dice D3 si guarda il pro wrestling 2.0 il heavyweight champion quindi ora per te parlare per te parlare per te parlare e lo che dice non 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 lo che dice è che è stato il proprio che non può farci che è la verità e lo che dice e lo che dice e lo che dice è vero io sono un ragazzo perché è un ragazzo non lo che dice che dicevi che non è che non è che non è che non è chi non è che non è gli uomini come chi chi ha ma perché io chi chi i quindi chi 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 Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! 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 Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Oh my god! No! 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 Well, 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 this place is looking every day a little more like a daycare but I didn't came to talk to the child I came to talk to these two gentlemen here if I remember right the last contender for the BW 2.0 EUA champion was Vertigo De Quiroa Rivera so I'm here to ask my title shot I won my title shot as soon as possible I don't care how you two sort of this it's you or both at the same time I won my title shot if it's possible today you two want to be here too I don't care I take it all one time maybe I have the solution maybe 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 I try usually I'm a smart guy so maybe I have the solution and I'm a machine if you're in faster last time what are you serious? Whoa wait no 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 oh 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Non è semplice, io vieno qui a implantare bandera in donde quiera che piso, la donna per la guardia è qui a Pro Wrestling 2.0, è per una competizione, una davvero competizione. Quindi, per implantare bandera, io vieno direttamente da Puerto Rico, tra i campionati di Pro Wrestling 2.0. Perché? Perché io rappresento la Lucha Libre. Non mi chiamiamo l'interessante. Grazie, grazie per l'introduzione. I don't know if you have a stand in the pictures later again. Do you have an opportunity for the 2.0 championship? Like I said, I want to give the opportunity too. And you, you, you deserve it, and you too. Ma come ho detto prima, ho una soluzione e infortunatamente ho risolto un problema con il clown, con il clown qui, con il clown qui, con il clown qui, con il clown qui. Angel, come here, magari ho un'idea, magari ho un'idea. Ok, tu pensi che hai la real build, tu sei la real champion, tu sei la real champion, ok? Ok, quindi facciamo qualcosa. La prossima show, me versus you. E poi decidiamo chi è la real champion e poi possiamo dare un'opportunità. It's really, really. All of you, all of you! Come on, i have a better idea. Hell yeah! Better idea. Chill! Better idea! Just to make the match more, how do you say in English? Spicy, right? � Brighter! Yes, Espiritismo! So, a more spicy, un poco mapp pathetic. Mettiamo, mettiamo un po' di piperoncino sopra. We put red dot chili peppers on the top. Sassone! 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 Cocina! Gli stai tutta! E ti chianti? E tetti il fanno si nervoso? Noi... Noi... La Jadee tenía un nome di lombard Jack! Oh! Oh! Wow! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! All right, a minute ago I had to take off my title. I got you, it's a Lumberjacks match. If I was not looking, you got it. Oh! Sì, Sì, Sì! So you will be the Lumberjacks team. e come ho detto, se i beat that clown, i will give you the opportunity non mi guardo chiudati più e prendo antidepressivi e tu non cercarmi più, io non ti cerco più e se ti trovo tu ti strappi vestiti, è chiaro il mio rispetto qua non lo regalo forse ho un difetto e l'ammetto, chiamami strano portami sopra il palmo d'una mano lasciami andare a fondo, in fondo è il comune che cazzo ci abbiamo, fa strano magari siamo innamorati, ma per quanto li dichiamo abbiamo il vines deprimati, tre stima velenati con gli occhi visti per i pugni dati forse siamo nati sbagliati, parati, estionati la storia o guasabi, tu mami io ti amo, scoppiamo invasati le poveri ma belli, senza soldi e per i gioielli amore coltelli e filati e non mi chiedere più se sto...